Buongiorno a tutti, in questo tutorial vediamo come utilizzare questo software anche se di fatto è una web application, cioè non ha bisogno di installare nulla almeno per chi crea una videoconferenza, come già potete iniziare a leggere mentre per i nostri studenti c'è la possibilità di utilizzare un'app il software Gizzi Meet è un software open source, quindi è totalmente gratuito non ha licenze d'uso e per accedere, vedremo poi nella pratica l'utilizzo non c'è bisogno di registrarsi, di avere delle credenziali di accesso chiaramente parliamo sempre lato docente affrontiamo questi quattro aspetti, c'è il primo di cosa ho bisogno per fare una videoconferenza con una classe poi andremo a vedere invece come far partecipare gli alunni alla nostra lezione virtuale come terza cosa vedremo come condividere cosa possiamo condividere, quindi finestre, programmi che avremo aperti sul nostro computer e ovviamente come affrontare una lezione successiva, quindi le volte successive quindi andiamo per ordine e iniziamo da questo primo punto cioè che cosa ho bisogno, che devo fare per iniziare una videoconferenza Gizzi Meet, come detto prima, non ha bisogno di far installare nulla al docente che appunto lo voglia utilizzare però c'è effettivamente da chiarire subito che con altri programmi per navigare i browser cosiddetti, quindi quale Mozilla, Internet Explorer Gizzi Meet dà dei problemi non tanto nella condivisione del video ma quando bisogna condividere il proprio desktop quindi se voglio far vedere del materiale chiaramente in tempo reale ai ragazzi mentre stanno lì collegati invece i creatori di questo software open source consigliano di utilizzare Google Chrome che è anche gratuito quindi laddove sul vostro pc utilizzaste o Internet Explorer o Mozilla Firefox potete tranquillamente scaricare ed installare in pochi minuti Google Chrome e non, ripeto, è un software, anche questo è un browser che non costa nulla poi di cosa abbiamo bisogno? ovviamente di un microfono e di una webcam va bene, tenete conto di una cosa che se vorrete utilizzare una postazione portatile un laptop tutte queste cose stanno già tutte integrate cioè non mi riferisco ovviamente al browser ma queste due quindi anche se non li vedete fisicamente la webcam si vede perché c'è un occhiolino diciamo lì al centro dello schermo in alto il microfono pure c'è perché c'è un puntino che probabilmente neanche si riesce a vedere e lì c'è il microfono quindi già un computer laptop è pronto per fare sta cosa poi che dobbiamo fare? beh, dobbiamo ovviamente quindi dal sito Chrome e quindi non dagli altri browser raggiungere il sito che qui ho linkato ma adesso proviamo a cercarlo vediamo che succede andiamo quindi in Google sempre ribadisco utilizzando Google Chrome e non altri browser e andiamo a digitare Jitsi Jitsi Meet Met va bene? vediamo che succede nei risultati ecco qui potremmo accedere ma questo è il diciamo il link più veloce se vogliamo quindi clicchiamo su Jitsi e siamo subito riportati nella pagina iniziale nella home diciamo di Jitsi Meet Jitsi vabbè punto org vedete il sito notate una cosa lo noterete anche voi nell'istante in cui apre la pagina e questa è una pagina scritta in inglese ma Google Chrome procede subito a tradurla in italiano quindi insomma giusto per quindi qua dove c'è ok insomma oppure Start e Conferenze insomma qualcosa del genere quindi viene subito tradotto che dobbiamo fare a questo punto? in questa casella proprio dobbiamo digitare il nome da dare a questa conferenza io per esempio vado a mettere Troiano metto solo il mio cognome dopo che l'ho messo vado a cliccare su Vai ecco qui lui non dovrebbe adesso renderla visibile eccola qui ci fa vedere quindi vediamo un po' di girare lo schermo e vediamo che c'è vedete questi primi quadratini notate riducono un po' prima è come se stesse a tutto schermo vedete ogni volta che clicco riporta a tutto schermo insomma giusto un fatto anche visivo i pulsanti che ci servono vedete effettivamente noi potremmo dire disattivare la videocamera questo sapete che cosa potrebbe essere utile che se ci accorgiamo che la nostra connessione non è proprio velocissima beh disattivare la telecamera come dire perché insomma come dire per qualche minuto non ritengo necessario che gli alunni mi guardino insomma per così dire velocizza il tutto perché viene trasmesso solo l'audio chiaramente in maniera analoga potrei disattivare il microfono però a questo punto capite bene che non sentirebbero più la nostra voce questo credo sia contemplata la situazione che sia parlare qualcun altro dei partecipanti quindi nel nostro caso un alunno in ogni momento ovviamente quando abbiamo terminato facciamo esci va bene quindi con esci viene chiusa diciamo questa videoconferenza quindi questa nostra lezione virtuale ripeto vedete la telecamera in ogni momento potete riattivarla vediamo invece i pulsanti che ci servono avevamo detto di chiaramente di porci la questione di come far partecipare gli alunni alla lezione virtuale andiamo a vedere come si fa vedete sullo schermo sparito sopra in basso a destra se invece ci avvicina una i che dice condividi collegamento informazione data quando vado a cliccare allora intanto chiariamo subito una cosa che per partecipare alla nostra videoconferenza io l'ho chiamata troiano loro dall'app di gizzi.org quindi gizzi.meet devono semplicemente andare a digitare proprio troiano l'unica cosa che possiamo fare per evitare che chiunque possa partecipare vedete è add password quindi nell'andare a mettere pure una password banale 123 e faccio l'invio vedete oramai è stata diciamo creata la password quindi noi preventivamente potremmo dire agli alunni che devono cercare già per il giorno dopo tutte le volte successive il come videoconferenza quindi digitare troiano gli verrà chiesto una password e devono mettere la password 123 quindi questo crea anche un ambiente se vogliamo chiuso insomma per evitare che chiunque possa insomma sapendo appunto il nome di questa sala come li chiama in il gizzi quindi chiunque possa entrare anche se c'è da dire che al momento in cui entrano un ulteriore utente cioè se io ho una classe di 20 alunni vedo 21 persone collegate è evidente che mi rendo conto che c'è qualcuno in più insomma quindi potrei farlo come dire uscire questo è un po' diciamo ciò che possiamo vedere così all'inizio invece qui nella parte sinistra come sono rimasti questi maledetti messaggi comunque c'è vedete condividi schermo praticamente che cosa succede che al momento in cui andiamo a cliccare vedete o ci chiede di condividere l'intero schermo quindi tutto il nostro desktop verrebbe condivido di applicazione praticamente che possiamo fare ad esempio se abbiamo aperto il word come io l'ho fatto per fare proprio questo quindi lo apriamo prima di iniziare pure la diciamo la videoconferenza la video lezione quindi selezioniamo e faccio condividi vedete gli alunni vedrebbero condiviso vediamo se scusate torno qui ecco qua vedete questo perché lui per un attimo mi ha aperto anche il diciamo il word vedete io nel word che potrei tenere insomma quindi scorrere scrivere qualunque cosa va bene apparirebbe ovviamente nello schermo vedete quindi quindi gli alunni vedrebbero ciò che stiamo scrivendo noi in ogni momento vedete c'è interrompi condivisione va bene e quindi facendo così ritorna alla schermata precedente man mano che gli alunni come dire si logano entrano nel nostro diciamo in questa pagina attraverso la loro app li vedremo qui di lato o sotto ma non so dove li hanno messi perché come potete vedere sto da solo vediamo le ultime cose vedete con i tre puntini dice più azioni stanno alcune cose che possono essere fatte tipo che ne so vabbè visualizzare a schermo intero vedete chiaramente riclico quei puntini per uscire da quella visualizzazione ho alcune opzioni che per esempio permettono addirittura di registrare la lezione io l'ho provato a fare ed effettivamente funziona anche bene inizia a registrare però questo diamo subito un inciso è già un livello avanzato per così dire perché utilizza dropbox perché se io faccio inizia registrazione tra un attimo ci avvisa pure c'è una voce dice sta iniziando la registrazione quindi non solo sto facendo lo streaming ma sto facendo di più sto salvando in qualche maniera questa lezione quindi è un aspetto avanzato ecco adesso lo ha detto dicevo è un aspetto avanzato che anche diciamo che soggetti a licenza tipo google meet non mi risulta che permettano questa cosa quindi diciamo è un bel aspetto diciamo una bella cosa da poter utilizzare in ogni momento quindi andiamo a fine lezione vedete posso fare ferma registrazione va bene qua mi chiede ovviamente di confermare vediamo un po' come posso inviare agli alunni a partecipare comunicando come quello è uno dei modi oppure c'è effettivamente in un altro modo perché non so se avete fatto caso quando cliccavo qui vedete c'è copia praticamente qui copia ok copia praticamente se io utilizzo apriamo un attimo un software tipo blocco noto e vado ad incollare vedete tutta sta cosa insomma tu sei invitato quindi per esempio sta cosa la potremmo mandare via posta elettronica vedete l'indirizzo però del che come dire di fatti devono utilizzare vedete meet.git.si slash troiano va bene quindi proprio ecco perché basta sapere come dire il nome della della videoconferenza chiaramente ognuno di noi cercherà di mettere o il proprio cognome questo suggerimento pure che faccio laddove ci sono colleghi che hanno lo stesso cognome mettere cognome e nome insieme semmai attaccati e quindi per dire avremmo messo Gerardo Troiano ok Troiano Gerardo c'è tutto attaccato e senza spazio quindi questo è un po' come funziona il software poi per il resto gli alunni qui non si vede bene c'è questa manina che permette di vedete alza la mano cioè perché hanno la possibilità di come dire di partecipare quindi di insomma di poter parlare cliccando su oppure vedete c'è app chat e questa è una cosa che hanno un po' quindi per esempio io potrei mettere come nome perché vedete ci chiede adesso di mettere il nostro nome quindi prof Troiano e tra un attimo vedete io potrei iniziare quindi a dire salve a tutti iniziamo la lezione di oggi va bene e quindi loro vedranno questo messaggio nella chat ovviamente la chat ad utilizzo di tutti quindi anche gli alunni possono intervenire dicevo o chiedendo di alzare la mano quindi vedremo praticamente le loro webcam proprio nel riquadro della webcam vedremo una manina che significa voglio intervenire oppure ripeto potrebbero scriverlo lì e dirci prof una cosa da chiedere quindi aprono il loro microfono e diciamo farlo quindi questo è un po' ciò che ci serve l'ultimo aspetto le lezioni successivi come avvengono esattamente nel scritto quindi noi riapriamo il software cioè per dire io sono l'unico docente con questo cognome ogni volta potrei tranquillamente utilizzare come il cognome quindi il nome da dare alla videoconferenza il mio cognome o come detto cognome nome se c'è un'omonimia mettere la password sempre la stessa chiaramente già comunicata agli alunni in maniera che loro non hanno difficoltà a quindi non c'è neanche bisogno ogni volta di ridirgli guarda oggi come dire questa cosa si chiama così insomma perché se diamo ogni giorno un nome diverso capite bene che dobbiamo poi comunicarglielo di volta in volta invece in questa maniera riusciamo quindi a riutilizzare di fatti la stessa situazione quindi noi ogni volta andremo a uno vedete chiudiamo qui vabbè qua ci dice se vogliamo inviare un feedback e vedete sta chiudendo e sicuramente ci riporterà nella pagina di gizzi mit quindi la prossima volta ripeto inizio una chiamata rifaccio esattamente come prima la chiamo alla stessa maniera quindi rimetto troiano ripeto se voglio mettere con il mio nome e faccio vai quindi ricomincia tutto da